Giovanni Rippa dal Palabanca per Pallavolissimo, siamo qui con Luca Tencati, Piacenza riesce a vincere e a fare una bellissima prestazione. Sì, riusciamo a vincere, non pensiamo magari all'importanza relativa della partita, proprio anche sul dato in sé perché è solo un girone, ma è importante per noi perché un po' ce lo meritiamo, anche se da fuori magari non sembra, noi non stiamo mollando gli allenamenti, stiamo soffrendo tanto perché lavoriamo, i risultati non arrivano, quindi una vittoria che ci siamo meritati, che ce la dedichiamo, questa è tutta per noi, speriamo di avere un po', dicevamo, una vittoria magari può aiutare anche il morale, speriamo di essere davvero così per affrontare le due partite in modo più sereno. Cosa ti è piaciuto di più di Piacenza? La concentrazione, la grinta e non far cadere a terra parloni? Sì, state la concentrazione perché oggi l'avversario, rispetto all'altro avversario magari non ci ha offerto un livello di contro così elevato, però è stato importante stare sempre concentrato, diciamo, in alcune situazioni difficili, vincere due set punto a punto che non ci succedeva da tempo, comunque ci sono delle cose più importanti oggi. Grazie Luca.